Si avvicina il secondo weekend del mese di settembre, il mese che normalmente accompagna il commiato della stagione turistica e balneare sulle spiagge pesaresi, ma sono tanti i bagnini che intendono prolungare questa stagione, un po' perché il meteo sta sorridendo, un po' perché c'è tanta voglia di recuperare il tempo perduto dopo la partenza a scoppio ritardato a causa del Covid-19. L'intenzione è quella di vedere il tempo come va, se le temperature sono ancora queste manteniamo ancora le attrezzature, che come negli stessi periodi degli anni passati cominciavamo già a lavare, quest'anno manteniamo un po' di più, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, che si pensa che comunque le temperature rimangono belle alte, poi viviamo la giornata. Non c'è una data limite? Non abbiamo fissato una data, ce la chiedono la data, che la data è quella dell'abbonamento stagionale, è il 6 settembre, ma la data di fine stagione è un'altra che ancora non sappiamo neanche noi. In genere in una stagione diciamo normale, chiudevamo lo stabilimento più o meno verso metà settembre, però visto le condizioni meteo e visto che comunque la gente continua ad avere voglia di venire in vacanza, il prolungamento sarà più o meno fino a fine settembre. Ramona, qui siete davanti comunque a tanti alberghi, questo incide sul prolungamento della stagione? Ma incide sicuramente, comunque noi di solito rimanevamo aperti fino verso il 15-20 settembre, prolungare una settimana di più non è che fa una gran differenza. Fino adesso siamo rimasti con tutti gli stagionali, con tutta l'attrezzatura in piedi. Da questo weekend pensiamo di chiudere il ristorante, di cominciare a riporre la nostra attrezzatura dopo sabato e domenica, perché comunque siamo arrivati a metà settembre, cominciamo la nostra manutenzione invernale e basta, per arrivare alla fine del mese in modo che lasciamo la spiaggia, perché noi abbiamo la licenza fino al 30 settembre, quindi comunque abbiamo una scadenza. Noi andremo avanti fin quando c'è il sole, è ancora attivo il servizio di salvataggio fino a domenica prossima, perché abbiamo deciso di fare questo servizio per i clienti. Inizieremo a togliere qualche ombrellone, a lavare qualcosa, però per il momento la spiaggia è completamente attrezzata ancora, insomma, per i nostri clienti e anche per i turisti se capitasse qualcuno, qualche forestiero. Non vi siete dati una data limite, diciamo? No, siamo abbastanza rilassati, visto che quest'anno la stagione è partita in ritardo, siamo tranquilli e fin quando ci sarà il sole, insomma, siamo qua. Agiremo più o meno come tutti gli anni e dopo il secondo weekend di settembre cominceremo a pulire la parte della spiaggia, cominceremo a diradare un pochino gli ombrelloni, però daremo comunque l'opportunità a tutti i clienti di avere comunque non più magari il proprio ombrellone, ma un ombrellone qualsiasi all'interno della spiaggia, perché chiaramente togliendone anche qualcuno, qualcuno rimarrà senza. Comunque daremo l'opportunità fino a tutto settembre di venire in spiaggia e utilizzare le strutture della spiaggia, le tini, gli ombrelloni, le docce, i bagni, quelli ci saranno comunque sempre.